Devolverò ogni mese la mia indennità di sindaco ad una famiglia segnalata dagli assistenti sociali, in un quartiere ogni volta diverso. Giacomo Olivieri, candidato alle primarie del centro-sinistra, in piazza mercantile affronta il problema dei baresi meno fortunati. Il suo non è un decalogo, ma soluzioni e gesti concreti ai bisogni e alle necessità dei più poveri, come quello dell'apertura di un supermercato sociale. Le aziende donano prodotti che i cittadini acquistano con dei punti virtuali caricati su una tessera. In cambio della spesa, i clienti devono mettere a disposizione ore lavoro per svolgere attività socialmente utili. Questo meccanismo ricorda sia quello del banco alimentare, sia quello della banca del tempo. È un'idea solidale per salvaguardare la dignità di tutti coloro che vivono momenti di disagio e non riescono a soddisfare i bisogni primari delle loro famiglie. E per i senza tetto, Olivieri ha ricordato il suo progetto sulle caserme aperte. Siamo in un momento di crisi tale in cui occorre offrire soluzioni rapide e concrete a chi non ha un tetto o un pasto caldo. Per questo sarebbe opportuno aprire questi luoghi alla solidarietà. A Bari sono numerosi gli immobili di proprietà degli enti locali e del Ministero della Difesa che potrebbero essere recuperati e messi a disposizione dei più bisognosi. L'amministrazione comunale deve farsi promotrice di iniziative da realizzare in quelle strutture più facilmente recuperabili per ricavarne subito mense, alloggi e centri di accoglienza, in favore di chi vive in gravi difficoltà. Un esempio l'ex ospedale Bonomo, al cui interno vi sono già una cucina in grado di sfornare molti pasti caldi al giorno e posti letto utilizzabili. A Bari, commenta Olivieri, ci sono molte famiglie che rischiano di perdere i loro figli perché non in grado di provvedere al loro sostentamento. Occorre dunque supportare madri e padri sia con contributi economici e sia aiutandoli a trovare un'occupazione.